Continua lo scontro serrato tra maggioranza e opposizione in Consiglio regionale. A pochi mesi dal termine dei cinque anni di consigliatura a tenere banco e la riforma elettorale. Qualche minuto prima della corposa riunione prevista per oggi, i vertici delle sinistre consigliari ed extraconsiliari hanno riunito la stampa per ribadire la loro netta critica ad alcuni provvedimenti in discussione. Oltre la riforma inerente alle elezioni, sbarramento al 10% e incompatibilità di doppia carica per sindaci e consiglieri, sotto accusa il recepimento della finanziaria 2014 e altri provvedimenti che coinvolgono studenti ed enti locali. Ne parlano Corrado Gabriele del Partito Socialista Europeo e il capogruppo del Partito Democratico, Raffaele Topo. Si annuncia battaglia e tutta l'opposizione, quella che ha rappresentanza in Consiglio, quella che ha rappresentanza nella società, tutta la sinistra che vuole cambiare le sorti della campania, si oppone a un disegno di legge che reinserisce delle cose a dir poco scandalose, dalla mancanza di fondi sulle politiche sociali, alle norme sul diritto allo studio che contestano gli studenti, all'elevazione dello sbarramento per la ripartizione elettorale che passa dal 5 al 10%, per finire alle norme che noi osteggiamo da due anni sul piano urbanistico che possono vedere una nuova speculazione edilizia in penisola sovrentina e nelle aree del Vesuvio. La Giunta vuole approvare a otto mesi di distanza, quindi un tempismo alla rovescia. Di solito i provvedimenti collegati alla legge di bilancio finanziario si approvano fine dell'anno precedente. Invece a otto mesi di distanza hanno sostanzialmente stravolto anche il testo proposto originariamente, introducendo una serie di disposizioni di vario contenuto, cioè di finanziario c'è ben poche ricadute effettive sulla campagna. Il tentativo tra l'altro di introdurre anche modifiche alla legge elettorale come è stato ricordato a proposito della ineleggibilità dei sindaci. A fare da contraltare il capogruppo al Consiglio regionale del nuovo centrodestra Ugo De Flavis che spiega le probabili soluzioni alla questione incompatibilità. La posizione è quella di trovare delle formule che diano certezza di governo anche ai territori, per cui la mediazione è possibile rispetto all'esigenza forte e condivisa di evitare che i grandi comuni le restino senza governo o con un governo precario, perché poi il criterio della legge era quello anticamente, da sempre quello della incandidabilità, tenuto conto anche della differenza di ruolo significativo. L'ipotesi a cui si lavora per evitare anche letture politiche sbagliate è quella di una decadenza dei sindaci nell'ipotesi in cui dovessero scegliere di candidarsi.